Racale è una cittadina di quasi 11.000 abitanti della provincia di Lecce, distante dal capoluogo circa 54 chilometri e situata a 6 chilometri dal mare Ionio, sul quale si affaccia la località costiera di torre Suda che ne è frazione. Il suo nome originario era Eraclea, da Eraclio, fidato liberto dell'imperatore Cesare Augusto, il quale avrebbe contribuito alla nascita del piccolo villaggio di Racale, apponendo come stemma del paese la lupa che allatta i due gemelli Romolo e Remo. Secondo un'altra interpretazione, l'antico nome deriva dall'eroe e mito greco Eracle o Ercole. Pertanto Eraclea testimonierebbe questo legame con la civiltà e la cultura ellenica antica. Una leggenda popolare racconta che quando giunse San Nicola Pellegrino in terra di Racale, i cittadini non lo riconobbero e lo isolarono, credendo di avere a che fare con un folle straniero. Quando si accorsero poi che i loro figli lo adoravano e ascoltavano i suoi insegnamenti religiosi, lo cacciarono definitivamente dal paese. Da quel momento i racalini vennero soprannominati li pacci.